Benvenuti, grazie, siamo tornati qui con un nuovo video sull'app 94% perché abbiamo visto che vi è piaciuto parecchio Siamo qui, facciamo un altro episodio e siamo qui con il quarto livello Tanto sono stati aggiunti nuovi livelli nel frattempo perché hanno visto il nostro video e hanno detto Aggiungiamo i livelli, esatto, e quindi però non diamo gli soldi Le cose fighe io voglio arrivare ai mani molto lenti però prima c'è cose che si schiacciano Scarafaggi, io pensavo ai brufoli Scarafaggi, 31 ma sicuro ai brufoli 35 per forza, 9 solo Cose che si schiacciano, uova, si schiacciano le uova, le palle, le palle si schiacciano Si fa molto male anche Pulsanti Pulsanti Bottone, è sempre la stessa E poi l'altro c'è, cose che si schiacciano, cosa si schiaccia Cazzo si schiaccia Non mi hai schiacciato Il pedale Il pedale Che cazzo si schiaccia il 35% quando hanno detto Prova Cosa che si schiaccia Ah le noci 35 Poi Mandorle No ormai Proviamo a vedere su un per cento quanto Che cazzo Pi Pisello Non c'è stata No ok Pisolino Pisolino C'è stava vicino Ma pure rima Chiaccia il pisolino cazzo Dicono in tutte le cose americane Chiaccia il pesto E' un cancro sto gioco Il pesto pulsante È giusto Uva Dai Luca si schiaccia Dai Borco 2 Ma come fai? Urive Cioè Facciamo il 3% Tutti i cappi Porco Padano Schiaccia il padano Un nuovo sport Schiaccia la talpa Schiaccia la Schiaccia la pa Fancuro Schiaccia la pa Schiaccia la pe La pecora Schiaccia la Pi La penna La pierna La pietra Senti Vediamo anche il 4% E vediamo cosa ci danno Esatto Il B Ah Il B Mojito Ci sta il mojito Bagascia Eh stavo a mettere bagascia Si schiaccia la bagascia Schiaccia la bagascia Schiaccia il padano E schiaccia la bagascia Bagallino c'è sta tutto Ma che c'entra Che cazzo è un bagallino? Prova Che cazzo ti frega Prova Io voglio mettere casa Schiacciamo una casa Non si sa mai Andiamo ad animali lenti Animali molto Lumaca Lumaca e tartaruga Ci stanno Tartaruga è 31 E qua finiamo Parà tipo Poi Lombrico Il coso Tipo il quale Il serpente più grande del mondo Ora è lentissimo Il pitone Ah è lunda? Non c'è tanto lenta Sta dentro l'acqua Io non dicevo quella Dicevo quella che è lunga Pure 7 metri La formiga è lenta Formiga La formiga è lenta Vabbè Allora con la k E koala Grande zio Ma io ci ho lì più usato meglio C'è solo koala con la k D'animale C'è la panda Panda? È sicuro cazzo No? Elefante Che poi l'elefante non è lento? Mazza Ma che porco del decarica Non si sa a quanto cazzo va Elefante Ce l'abbiamo fatta a scriverlo Ok Gli animali abbiamo già finiti Sì Torniamo sui No fammi immagine Immagine Disco Disco Gira No Mazza Eee Musica Poi Come si chiamava? Gira dischi Gira dischi Ma penso che non ci sia Ah la vaffanculo Vinile Giallo 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 Dai cazzo Come fai? E come tipo ha? Colori Metti Nero Nero Mina Vecchio Mina No Vecchio Ha messo vecchio Vecchio Ah Ha dato vecchio invece di nero Sì Vabbè Scriviamo Cacca Non si sa mai Eeeh Linee Anni 80 Si dai Porca puttana Vedi un po' come cazzo inizia Pi Che palle sta trovia davvero Noi passiamo intanto al livello successivo Perché è un'ora che stiamo cercando soluzione Ma non ci riusciamo Ok ti fa bene ma non ti piace Verdura Sport Eeeh Frutta Medicina Eeeh Ospedale Dottore Dottore A me piace il dottore La dottoressa Sì Infermiera Ecco E qua ci si blocca Come al solito Suocera Ma non ti fa bene la suocera Cos'è che ti fa bene ma non ti piace Bene Compiti Scuola Ah Studiare Eeeh Ci siamo Ti fa bene ma non ti piace Stirare Lavarsi Non mi piace lavarmi Beh Questo già era più plausibile del mare C'è chi veramente non mi piace che lavasse Eeeh Ascoltare Di Dio Dieta Ah dieta Ponte 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 Fa bene ma non si piace Fa bene però E' buono Sai che però a volte mi fanno qui i tassolini in mezzo ai punti Perché il ponte non ti trisci tanto bene Il porco Fare una parte del porco fa bene Però non è che ti piace dillo Pesce No Pesce Ma che fa Ma che fa Ma che fa Ma che fa Mi piace il pesce Ma infatti C'è Non in quel senso Ahahah Glianda Zoc Ma è la noce Quella Scogliato Vabbè Scogliato Neve 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 Eeeh Pelo Ah natura Animali Natura Cibo Kobo Koiba Oh porca puttana Rotitore Unghie Cosa vedi in questa foto Solo quello Cioè Non è che c'è molto Carino Inverno Vaffanculo Va Eh Stavo per mettere targo Se no Facciamo l'ultimo livello E poi ci becchiamo Al prossimo episodio Come sempre Tipi di musica Rock Jazz Rock Pop Rap Blues Blues Metal R&B R&B E' sempre un tipo di pop Di pop A parte che è un tipo di pop E non di pop Soul Country Country Dai ragazzo Non mi puoi non mettere country Lirica Lirica Classica Moderna Tecno House Vabbè Facile facile Questa Questa Naga c'è stata Olè Youtube Telecamera Tv Cameraman Poi Cosa è Cosa è Con la Microfono Video Intervista Video Youtube Tutto Cosa che fa con il video Diretta Collegamento Tg Youtube Basta con questo Youtube Ma che c'è Le telecamere Youtube Noi Magari Scusa tv Tv Perché non la prende La televisione Vabbè però si è stronzo Che poi c'è quando tu metti che cazzo ne so Hai messo mina Ti ha messo righello L'altra volta Si Invece mo se mettete i v Ho trovato l'ultimo A posto E ce l'abbiamo fatta E mancano ancora quei due Che dovete dire Fermati Voi E' stata dura anche oggi Ma quelli due ce lo dovete dire voi E niente ragazzi Se questo video vi è piaciuto Come sempre Lasciamo i likes E noi ci pecchiamo Al prossimo Video Da Granz E tutto E niente Passate su Instagram Ciao Ciao